Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E benvenuti in un nuovo video E come diceva l'antico detto giapponese Every day is day But today is the day Giapponese, eh? Giapponese Ma prima di questo il video di oggi è sponsor by Hookies Che in questo 2023 ci accompagnerà con l'acquisto delle licenze Windows Come ormai fa da anni E non solo Windows perché lo sapete Su Hookies con il nostro codice sconto PD20 Ormai leggendario Avrete il 25% su tutti i software che potete acquistare sulla piattaforma Quindi in primis Windows sicuramente Ma anche tutta la suite di Office La procedura ormai la sapete Basta inserire PD20 nel campo codice promozionale Che trovate una volta entrati nel vostro carrello Per vedere subito lo sconto applicato al totale Per esempio potrete recuperare Windows 10 nella chiave digitale a 15 euro Già scontata con il nostro codice Che ovviamente può garantirvi l'aggiornamento gratuito anche a Windows 11 O direttamente una chiave di Windows 11 A poco più di 20 euro Ma anche Office Che inserendo PD20 a carrello Potete recuperare a poco più di 40 euro Nella sua versione più aggiornata sul sito Quindi scegliete il prodotto Aggiungete a carrello Poi inserite il codice sconto E da lì potete selezionare PayPal O il metodo di pagamento che preferite Come sempre tutti i link utili li trovate qua sotto in testa Alla descrizione Quindi fateci un salto E fateci sapere se avete acquistato qualcosa E noi torniamo al video Torniamo oggi da voi A montare un PC A mettere le mani in pasta Sì ma non un PC qualsiasi Il mio Il PC Più tamarro del mondo Il PC più forte del mondo Il PC più forte del mondo E per forte non intendiamo a livello di potenza O meglio sì Però è potenza Di ignoranza e tamarragge Esatto Proprio questo è qui bassissimo Mostralo Siete pronti? Non so se ho la forza Non hai bisogno? Sono 20 kg Sono 20 kg Che puttana Benvenuto Effettivamente potete tirarlo su io Eh già Questo sarà il mio nuovo PC Adesso andiamo a montarlo Si prevede un video tosto Questo amici miei È il Code Stellar Di ultima generazione Di Deepcool Che sembra effettivamente uguale Al vecchio Ma non lo è Come si vede Già e si evince Da tutto questo popò di frontale È diviso di fatto in quattro camere Vuoi venire a vedere? Questa Slitta 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 Slitto Questo dovrebbe essere la GPU Esatto Il Ryzen però non c'è Con tanto di Ryzen Che probabilmente Se non è nella scatoletta Non c'è Tattacchi La metti attaccata alla scheda Ecco Deepcool Questo malissimo Questo è un sample review Che ci ha mandato Deepcool Estremamente male però Se non c'è Ryzen incluso Anche perché di fatto La camera qui è fatta apposta Per avere la GPU dentro No Perché altro che costa 400 euro E quindi un Ryzen Me lo può includere Ma sì Dettaglie Perché i soldi Vedi che ci va qua Eccolo qua Vedi Questo è lo spazio per il reattore Nuclear Allora Questo è tutto quello Che Deepcool include E non credo ci sia un Ryzen No Diciamo che Noi abbiamo preso in mano Case Da diverse centinaia di euro Anche il mio Fantex vecchio Come ne allio 11 day No amico Tutti i case di Lore Di solito Sui case premium Viene inserita una vaschetta Fatta bene Con delle istruzioni Qua Barbonata Scatola di plastica Col manualino Manco del case da 50 euro Deepcool Ma questo perché Non ci siamo proprio Perché tutto il succo Sta dentro Puoi fare Questo Ok Sembra la DeLorean Di ritorno al futuro Però quando vendi una roba O Bruce Willis In trappola di cristallo 400 euro Per dei pezzi di ferro Comunque Hola Abemus Scheletro Ovviamente Date le forme E struttura Un po' particolari L'hardware va montato In modo un po' particolare Infatti il Quotstellar Si vede così Davanti con le quattro camere Messe a X E la scheda madre Va in obliquo Sulla slitta Che vedete qua Sì In realtà c'è un piano Che è proprio lungo E poi ci sono Questo due Questo qua sopra Che per la GPU E questo qua sotto Che per l'alimentatore Però il PC In realtà Si sviluppa nella camera Questa qua dal basso Verso l'alto In obliquo E ci sono anche Più modi Per mettere la roba Per esempio Questo Qua ci puoi mettere Il dissipatore Qua ci puoi mettere Il dissipatore Che però È un po' controproducente Perché la parte della CPU È dall'altra parte Quindi Hai il riser di mezzo Se la metti qua O la scheda video di mezzo Se la metti qua Quindi il modo migliore Forse per installare Il dissipatore Rimane sempre qua Davanti Qua una volta smontata La camera di sopra Chiamiamola così Si apre lo spazio Di lavoro Di un PC normale Anzi Si ha molto più spazio Molto più spazio Anche perché È totalmente aperto A parte per questa costrizione qui Però volendo Si possono togliere Anche le due barre Quindi Ti puoi anche liberare Però non ti limitano tanto In ogni caso Non ti limitano Hai tutto lo spazio Per entrare Fare cose In generale Montiamo la scheda mamma Ora Ovviamente Il montaggio di questo PC È Cioè Tutta la scheda madre Leggiamo Per favore Oh yeah Ovviamente Il montaggio di questo PC È molto semplice Perché il PC di fatto Era già tutto assemblato Cioè Qua sopra Abbiamo La CPU Che è un 7950X3D Con 32GB di memoria In questo momento L'SSD È il 990 Pro Da 2TB Di Samsung E Nient'altro La scheda madre È Un Asus Hero Semplicemente Perché Comunque Asus Ci ha fornito Quelle che Erano Con X70 E quindi Veniva comodo Nel caso di urgenza Avere la stessa scheda Avere la stessa scheda In modo tale Avendo stesse RAM Stesse CPU Da poter fare Praticamente Le stesse teste Riuscire a raddoppiare Le postazioni Ora andiamo a montare Il dissipatore Però raga Guardate quanto spazio c'è È una TX E c'è ancora Una bordata di roba Che si può installare dentro Il dissipatore Di fatto Ci sono Almeno un paio di modi Per montarcelo dentro Questo case Ma il più comodo È questa slitta Che c'è Sul frontale Perché di fatto È quella che può ospitare I dissipatori più grandi Quindi Il 360 di Davide Esatto E ormai Se un case premium Non ha le slitte Ragazzi Non è premium Non è premium Di fatto guardate Di fatto guardate Queste ad esempio Sono le ventole Che abbiamo smontato Da sotto Le unifan Del Lianlio 11 dynamic Il mio case attuale Quello che sto usando adesso E di fatto Come vedete Sono Non abbiamo staccato le ventole Ma abbiamo solo Staccato le slitte Se non c'è la slitta Non è case premium Una cosa Che mi fa impazzire Di deep cool È che Le vitone grosse Quelle tutte Attorno Non sono a sgancio O meglio Non sono di quelle Che rimangono Incastrate Non dovete ogni volta Smontare e rimontare Mentre invece Dentro ce ne sono due Così E tutto il resto no Sì Il montaggio di questo dissipatore Verrà in un lato Che di solito Non è consono Per un normale ATX Perché sarà in basso Però anche qua La scheda madre è in basso Così Esattamente così Con il water block in basso Perché la scheda madre Avrete girato al contrario Tra l'altro Il dissipatore Che avevo montato Nel mio Lian Li È sempre un deep cool È l'LT720 Con le ventole Unify Di Lian Li Però Unifan Unifan Anche io ho sbagliato L'altra volta Unify è quello che c'ho Nel modem Esatto Che sono stra comode Perché vedete Tre ventole Un cavo Un cavo Sì di fatto Sono ventole Che al di là Di resa Di silenziosità Che comunque Non sono neanche male Per essere ventole RGB Il fatto che la comodità È talmente superiore Che E infatti Stanno diventando Un nuovo standard E tantissimi Li stanno copiando Come sistema Sì questo forse Sarà un po' trichilo Mettere la pasta termica Così Dall'alto Mentre registriamo Un po' L'ho messa anche A testa in giù A gravità zero Il bello È che molti di voi Chiedono A quanto Di farci pagare il pc Di farci assemblare Il pc da noi Che ci paga il tutto A me 30 euro Ve lo faccio Lui si deve pagare Un milione di euro Il signore supremo Del montaggio Del pc Scherzi a parte L'opera Noi abbiamo recensito Abbiamo Proposto anche Su prodotti Che offerte Tantissime volte Un botto di prodotti Di Deepcool Abbiamo avuto prodotti In esclusiva Con sconti E tutto Però di fatto Si trattava Tutti di prodotti Dalla qualità Prezzo Ti ricordi Castel Fortissimo Esatto Estremamente forte Non so E non mi sembra Di rivedere Qua Quando andiamo In fascia Enthusiast Perché questo è Assolutamente Fascia enthusiast Non mi sembra Di rivedere La stessa Diciamo Innovazione Perché un prodotto Di questo tipo Comunque Deve proporre Di essere anche Attento Alla qualità Dal packaging A delle viti Fino Ovviamente A qualsiasi cosa Me pecca ancora Un pochino Secondo me Sì è vero Alla fine di fatto Il Quadstellar È un case Che è in commercio Da anni Questa è una rivisitazione In chiave Con un po' di cose riviste Un po' aggiornata Esatto Però è rimasta La stessa di anni fa In quanto Ha tutto il resto Dotazione Packaging Eccetera Invece Avrebbero forse dovuto Migliorarla un po' Anche perché Di fatto Ultimamente Stanno facendo Tanti prodotti Interessanti Quindi ci poteva stare Ma questi stessi dissipatori Sono veramente interessanti Hanno un costo Comunque Sul centello Sono andati in sconto Anche alle offerte Di primavera Al prim day Primaverile Di Amazon Comunque Con 100 euro Ti porterebbe a casa Un LS 720 Da Appunto Da 360 Che tu dici Con 100 euro Cioè riesco a prendere L'utile Il dilettevole Infatti noi abbiamo sempre Gatto Arctic È la migliore qualità prezzo Dal punto di vista Di dissipatore liquido Perché con 60 70 euro 80 Porti a casa E sei a posto E hai il signor dissipatore Ti porti a casa Anche l'estetica Con qualche euro in più Esatto Quindi ci sta Sì L'alimentatore ragazzi Non lo guardate Non è molto sobrio Questo è il classico Predicare bene Razzolare malissimo Malissimo Tra l'altro Volevo farvi vedere Che qua abbiamo Ho acquistato Il 12 HPVR Di Cable Mod Con la classica visiera Da guardia imperiale Esatto Con la visiera Da guardia imperiale In questo caso La camera Adibita All'alimentatore È quella inferiore Questa qua Che vedete qui Così Di modo che abbia Tutti i passaggi Come classico Quindi come se fosse Dietro in un PC Classico Ma è integrata All'interno del design Però non è poggiata a terra Non ha Poggi Questo pesa un botto Non ha Poggi Però ha quelle due linguette lì Che te lo fanno Incastrare lì dentro Tra l'altro Molto bello Non c'è il connettore unificato Per l'accensione frontale Ma c'è solo il power Due pin E basta Tanto non so se l'avete apprezzato bene prima Ma qua ha delle finestre davanti Che voi cliccate E aprite per far passare l'aria Cioè Le prese d'aria Cioè è fighissimo Che si aprono e chiudono Qui dietro come vedete La camera è vuota praticamente Se non per ottimizzare il giro dei cavi Però ci si può stoccare anche tutto quello che è Il discorso di Hub Per le ventole Ad esempio O qualsiasi altra cianfrusaglia Quindi facciamo un po' di ordine Ma che bel bijou Manca la scheda video Prima di vedere se funziona Perché non dovrebbe funzionare Hai dubbi sulla mia capacità di montarti il pc? Sì Ok ci sta lecito Tecnicamente sarebbe stato bello Metterla nella sua parte in alto Però non avendo un riser Con credo sia Con il tuo 90 gradi Sì alla fine Sì serve proprio un sostegno Perché di fatto la piastra Non ha buchi Quindi di fatto il riser Si infilerebbe in uno di questi tre fori Ma non ha punti di ancoraggio Quindi serve la base sul riser E non ne abbiamo uno così Ma comunque non l'avremmo montata sul riser Semplicemente perché in questi giorni Dobbiamo fare delle review E fare dei test Quindi di fatto il riser È qualcosa che nei test Può comunque anche se In minima parte Essere fonte di alterazione Per cui di fatto Si attacca direttamente Poi sicuramente Se lo terrò Magari farò qualcosa Con il riser Però in questo momento Non l'ho previsto E là Vediamo se funziona Pronto? Uuuuuh Nurant E Nurant Minchia Bellissimo Anche se Il case Per vederlo bene Va chiuso Esatto Quindi chiudiamolo E là Uuuuh Uuuuh Te è rimasto in mano Allora ragazzi Il case è finito Ed è figo Ve lo accendiamo Ed è La cosa più ignorante Che abbia mai visto Tavarrissimo proprio Di fatto questo È uno dei case più Scenici e strani Che potreste trovare ad oggi Perché è probabilmente l'unico Con questa concezione delle camere separate In questo modo qui A parte il Tristeller che è sempre Deepcool Ed è più piccolo Però in generale è anche aggiornato Appunto come hai detto Gli hanno aggiunto qualche figheria Come la USB-C La RGB davanti Per cui ha una serie di feature Aggiornate rispetto al modello vecchio Non credo abbandonerò Il mio O11 Per questo case Lo userò per fare il figo Pasquetta Come amici quando vengono qua Fa la grillata Le lo faccio vedere Finisce lì E tu prendi per il culo Quelli che flexano il PC da gaming E poi sei il primo Che flexa il PC da gaming Incredibile Però sì Di fatto È stato migliorato Un pochettino Anche se rimane Molto carente Su tanti punti di vista Come case È un approccio Difficile Inutilmente È macchinoso Anche perché E poi soprattutto Quando io compro Un case di questo tipo Tutto deve essere Il suo interno Io non devo andare A comprare Altre cose Al massimo Se voglio un display Ok Lo metto Ma riser Tutte le cose di montaggio Su un case Che costa il doppio Letteralmente il doppio Di only a 11 dynamic Che è lo standard In questo momento Evo ovviamente Il modello Evo Dei case Di alto profilo Di alto livello Per delle build Potenti Va bene L'approccio particolare Va bene Il design ricercato Però mi devi dare Anche tutto Il resto Della qualità Chiaramente E come detto Tra l'altro Da Deep Cool Ce lo aspettiamo Perché di fatto Le cose di qualità Le stanno facendo Quindi non è Che non sono capaci Però Deep Cool Fino adesso Secondo me Non è un brand Che si può Diciamo definire Entusiaste Per gli entusiasti È un brand Molto improntato Alla qualità prezzo Che fa ottimi prodotti Al prezzo giusto Esatto E va bene così Infatti Meglio così Però su prodotti Di questo genere Il dettaglio Che sul prodotto Da 100-120 euro Ad esempio L'Arti Il dettaglio Ad esempio Se ha magari Troppi cavi Dici Vabbè Però è un ottimo Dissipatore Esatto Ha quel prezzo lì Non puoi chiedere Non stai a fargli Le pulci Esatto Su un prodotto Del genere Ovviamente Gli guardi pure Veramente qualsiasi cosa Di fatto però Se prendo un prodotto Del genere Perché volete fare scena E scena La fate Assolutamente Anche se Ripeto Per quello che Guardo io Che comunque Ho un canale YouTube E può andare bene Per quello che Per farlo vedere Quella volta lì Però di fatto Non vedo motivo Per cui una persona Dovrebbe spendere Questi cifre qua Per mettersi in casa Una roba del genere Se non per farsi Pippotti da solo In camera Rispetto A un lì al lì O undici Sì figo Che ti puoi Cioè le prese d'aria Schiacci Bello Sì per carità Lo fai un paio di volte E poi hai finito Quindi ragazzi Se volete fare Veramente Gli sboroni Esagerati E volete qualcosa Di effettivamente Molto particolare 400 euro Però li dovete buttare Quindi fateci Più di un pensiero In questo caso È unico Sicuramente Non è per tutti No Assolutamente Neanche alla lontana Proprio Torniamo a parlare Di hardware Qualità Prezzo Interessante E ricordatevi Che appunto Quest'hardware Lo trovate Tranquillamente Su Prodici Cofferte Giastrackit Soprattutto Per quanto riguarda Tutto il resto Dei prodotti Che abbiamo sempre Apprezzato Di Deepcool Esatto Qua sotto Trovate tutti i link Come al solito Vi lasciamo magari Anche lui Ovviamente Se siete interessati E alla prossima Ragazzi Soprattutto